Turismo di ritorno, se ne è parlato nel corso di un pregevole convegno tenuto al convitto Mario Pagano di Campobasso ad organizzare l'appuntamento che ha voluto mettere in luce l'importanza di un collegamento strettissimo tra i molisani all'estero e il territorio di provenienza, è stata la sezione molisana del CIM, Confederazione degli Italiani nel mondo, presieduta da Antonio D'Ambrosio. Mettiamo in campo, o stiamo cercando di mettere in campo insieme agli imprenditori del settore e alla regione, insomma all'istituzione, elementi pratici per poter organizzare e favorire il rientro. E tra queste cose pensiamo, quello che attira di più nella prima esperienza è per esempio nelle anagrafe dei comuni ritrovare l'albero genealogico della propria famiglia, del proprio nonno, del proprio bisnonno. Allora i comuni sono protagonisti insieme, sia per l'accoglienza ma sia per queste cose pratiche, anche per la visita della comunità, insieme agli imprenditori del settore che vada giovani, professionisti, guide, che sanno raccontare la nostra religione, la nostra storia. L'appuntamento è stato curato in stretta sinergia con la regione e con l'assessorato ai molisani nel mondo. I numeri sono numeri importanti, si parla di oltre 70 milioni di italiani che stanno in giro per il mondo, quasi un milione di molisani che stanno in giro per il mondo, ormai di terza, anche di quarta generazione. Questa è una grande opportunità per il paese e una grandissima opportunità anche per la regione molise. Quello che viene comunemente definito come il turismo di ritorno, il turismo delle radici, può essere una grande opportunità per la nostra regione. Il governo regionale c'è su questo tema, stiamo facendo dei grandi investimenti, grandi progetti e ci stiamo veramente credendo con tutti gli attori del territorio, proprio per sviluppare una cultura dell'accoglienza e mobilitare, io dico, quelli che sono i molisani che stanno in giro per il mondo. Presente all'incontro anche l'onorevole Giuseppino Occhionero che ha tenuto a sottolineare l'importanza della conservazione dei piccoli borghi e la salvaguardia del territorio. Io credo che il Molise sia una regione fatta di paesi e quindi bisogna ripartire dal recupero dei paesi, per evitare soprattutto che i piccoli borghi, i piccoli paesi soffrono di uno spopolamento che poi crea un notevole danno non solo alla nostra regione ma all'Italia intera. L'abbiamo detto prima, c'è un Molise nel mondo più popoloso del Molise in Italia. E allora dobbiamo cercare di far sì che l'attività di chi rimane e l'affetto di chi è andato via, per quanto poi rimanere in questi piccoli borghi, è certamente una scelta coraggiosa, ma anche andar via è una scelta coraggiosa. Allora bisogna far sì che questo ritorno non sia concentrato solamente nel periodo estivo, ma cercare di spalmarlo su tutto l'arco dell'anno.